Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aperitivo alle pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 minuti. Gli ingredienti sono acqua ghiacciata, pesche, sfumante e zucchero. Le dosi degli ingredienti le troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a polverizzare lo zucchero. Mettiamo lo zucchero nel boccale e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Pieniamo sul fondo lo zucchero. Adesso aggiungiamo le pesche. E aggiungiamo i bimbi per altri 10 secondi a velocità 10. 15. Adesso aggiungiamo l'acqua, mi raccomando ghiacciata. E lo sfumante. Andiamo ad amalgamare il frutto per 40 secondi a velocità 3. Il nostro aperitivo è pronto. Andiamo a riempire una garaffa o lo possiamo posizionare direttamente nei bicchieri. Aperitivo alle pesche. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.